Catania ha celebrato la giornata della cultura ebraica con iniziative culturali e anche un po' sentimentali che hanno rievocato il grande legame della Sicilia con gli ebrei. La cultura ebraica internazionale con sede a Catania e il suo organismo, la Carta delle Giudecche, sta promuovendo un'opera di integrazione tra ebrei italiani e ebrei di Sicilia e quindi siamo sostenuti dalle unioni delle comunità ebraiche italiane, l'UCEI, e abbiamo anche il supporto della terra santa, cioè di Erez Israele, dal forte rabbinato israeliano e soprattutto stiamo promuovendo un'opera di divulgazione non solo culturale ma storica, far capire che noi siciliani siamo anche ebrei, noi tutti siciliani. Tra le manifestazioni certamente molto sentite è stata la festa di piccoli calciatori che in Piazza Verga hanno ricordato Ghezza Kersten, calciatore in Ungheria e poi allenatore del Catania che portò fino alla Serie B, che morì proprio nel tentativo di salvare i connazionali ebrei e fu fucilato nel 1945 dopo essere stato scoperto dai nazisti. Catania è ricchissima di documenti che evocano la storia di famiglie ebrei in Italia e proprio il Castello Ursino ospita in questi giorni una mostra di epigrafi che testimoniano la vita ebraica a Catania. Uno scambio culturale tra la Sicilia e gli ebrei che non si è mai concluso, anzi si è intensificato negli ultimi anni come dimostrano le iniziative anche imprenditoriali che mettono in contatto le due culture. È stato stipulato un protocollo di intesa tra tutti i distretti Lions di Sicilia e i distretti Lions in Israele grazie all'opera della Carta delle Giudecche e l'opera dell'Avvocato Triolo che sta promuovendo un'opera non solo di divulgazione culturale ma proprio di testimonianza ebraica. Abbiamo l'olio kasher, abbiamo anche un rabbinato finalmente ufficiale a Napoli con il rabbino Bachbut e adesso speriamo che ci sia questa rinascita semita che non include solo l'accezione arabo ma soprattutto quell'ebraica anche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.